Lo dico sinceramente perché veramente è meraviglioso questo convento. Allora, questa è la prima mostra, la città del futuro e ci sei tu. Lui è Antonio Balbi, pittore di fama nazionale ed internazionale, originario di Rocca Gloriosa, ma vive in Germania a Tracoforte. Allora Antonio, insomma vediamo alcune tue opere, parlaci della tua cultura, va bene? Sì, poche battute. Allora, intanto ringrazio l'opportunità di Giovanni Fortunato che ci ha dato, ci ha regalato con questa prima rassegna d'arte contemporanea qui a Policastro Bussentino in questa location straordinaria. E qui ho portato la mia ultima collezione, alcuni pezzi della mia ultima collezione ed è il Dio della Fertilità. Questo è il frutto.